Proseguiamo nell'attività di sviluppo dell'azione nei confronti dei parcheggi comunali e verso i cittadini attraverso la messa a sistema del nuovo software di gestione che permette una serie di agevolazioni per i cittadini e di semplificazioni che secondo noi è un passo importante per andare verso il futuro. È una piattaforma tecnologica che ci mette nelle condizioni di sviluppare sul territorio un'azione positiva verso i cittadini e noi pensiamo che nella sostanza è un qualche cosa di importante. Cicero è un software che gestisce direttamente attraverso i smartphone la possibilità di pagare i parcheggi direttamente attraverso un app store all'interno dello smart. Grazie. Grazie.